Giornata conclusiva del rugby a Caltanissetta, qui tante atlete, tante novelle regbiste. Abbiamo con noi Sharon di tutto lo mondo e Sara Cancimeri. Cominciamo da Sharon. Cosa ti porta a fare rugby? È bello fare rugby, anche perché ci vuole molta potenza. A me piace soprattutto questo modo di fare. Quindi sei d'accordo col fatto che la tua scuola, il liceo scientifico Alessandro Molto, stia partecipando a questo progetto e quindi vi abbia dato la possibilità di conoscere questa nuova realtà sportiva. Sì. E se dovessi consigliare a una tua amica di fare rugby, quali sono i lati positivi che sottolineeresti? Beh, è molto piacevole questo sport. Sara, tornando a casa oggi ai tuoi genitori di questa giornata, cosa racconterai? Che avevo conosciuto anche altre persone attraverso questa cosa che abbiamo fatto. E niente, ci siamo confrontati con un altro liceo, comunque, un altro liceo. Il rugby mi piace, intanto a me piacciono gli sport pesanti in generale, però il rugby mi piace particolarmente perché si basa su principi dell'amicizia e del rispetto nei confronti dell'altro, nonostante comunque sia uno sport abbastanza, diciamo, aggressivo, diciamo. Si può dire aggressivo, non violento, aggressivo. Non è violento, è un po' aggressivo, sì. E poi non lo so perché io quando faccio un'età mi realizzo, non lo so, realizzo una cosa della mia vita. E questa è una cosa positiva. Sì. Sharon. Allora, è uno sport aggressivo perché a me piace molto questo sport, anche se non riuscirò a praticarlo per altri motivi ed è molto piacevole come sport, anche perché oggi ho conosciuto molte ragazze ed è stato molto piacevole.